5. Wow, stai bene! 3. A tutti ieri! Poi! Alla scena! 1! O che c'è un'altra? E ora? No, dove c'hai l'istituto finali? Ele che c'era ti perso? non lo so dove c'è il boss al finale? snow is the final boss down dai devo tornare indietro dove siamo come si era subito un volo come and get your tools of trade cazzo non avevo un soldi avevo fatto un cazzo di soldi niente c'è 61 da armatura io porto il demonio non è troppo pesante per te ci sta? andiamo andiamo veloci scusate per un ritardo andiamo 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 iscriviti chiaro scusate andiamo 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 un carro è un boss! un cazzo di boss! e dov'è? stiamo vicini ragazzi stiamo vicini! mandorlei soprattutto! mi ha dato che come questo! ch'eatinato! mi ha dato che ci sono! noi ci sono! ci sono! ci sono! No, sto morendo No, sto morendo No, sto morendo Dove è? Non lo faccio, ho visto Dove è? Non lo vedo No, sto morendo 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 No, che cazzo è successo No, non fai più altrimenti Rock Vinc No No Mardio No 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 Oh, io pure gli ho sparato veramente l'impossibile Un Cioè 120 colpi alla peso Cioè 27 minuti e 54 di mappa Cioè Sulla mano non me la sento più Vai vai Direi basta Sì Oh, comunque Era arrivato a un terzo Mancava un terzo Madonna e rabbia Io però C'avevo l'arma più potente possibile E non è che li facessi con te sta madre Neanch'io Neanch'io infatti No No Come cicciolina No C'ha le bombole dietro Eh Eh E va bene Però c'è un maledio Oh No Che sono? Beh Comunque sta salendo di tutti i gradi Allora lì, tin tin tin, slot 5, tirano male 2, peperotto 24. Ecco, bello però, mentre indossi l'armatura subisci danni alla salute solo da attacchi sonori e i slot non possono afferrarti. Ogni partita inizia un'armatura al 50. Bello questo, ci piace. Ragazzi è stato bello toccare insieme a voi. Vai. Davide. No, giù, giù, giù.